Los goles del compromiso fuero un'opera di volante Santanderenau. John Perez, a los minuto 18.37 del secondo tempo. Al centronautista il Lego, all'Antonizian numero 18 con la camiseta di Almarillo e la trentasesima con un'carrera professional. E' una bella, te rire subito cosi. Con este risultato atletico, Bucaramanga, pobre Codinci, es el líder del tempo G de la Copa Vila con 10 unidades, mientras que los de Norte, de Santander, se ubican, ubican seguandos un cauto puntos. Los rígidos por José Manuel Rodríguez son en el único equipo invicto del fútbol profesional colombiano. Il prossimo partito del Bucaramanga, che, beh, infatti non si stiamo chiedendo quando giocherà il prossimo partito del Bucaramanga, sera ante del Real Cartagena il martes 21 di april por lo torneo di Ascenso. Poi. Questa era la notizia e, niente, un bel pari con l'inizio. Arrivederci alla prossima. Arrivederci alla prossima. Grazie.